Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati su Supermarket Simulator, la nostra seconda puntata di questo bel giochino. Allora, ieri mattina l'ho portato in live sulla piattaforma Viola. Io vi invito sempre a venirmi a trovare sulla piattaforma Viola che trovate qua sotto in descrizione, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere se avete Amazon Prime, potete abbonarvi gratis, aiutando e sostenendo Robertino Vostro. Vi ricordo anche TikTok, Facebook e Instagram, i miei social, e vi ricordo infine di lasciare un bel like, adesso l'avete fatto, che è molto importante. Che cosa abbiamo fatto ieri mattina in live? Abbiamo fatto un po' di soldini, abbiamo sbloccato e comprato il frigorifero, oltre che la licenza per acquistare nuovi prodotti. Perché? Perché qua, per acquistare nuovi prodotti, ci vuole una licenza. Quindi noi inizialmente abbiamo iniziato con il pane, la pasta, la farina, lo zucchero, e poi con la nuova licenza abbiamo sbloccato il tè, il caffè, le uova, il formaggio, l'acqua. Ma per il formaggio, l'acqua, le uova e il latte ci voleva un frigo. Quindi abbiamo, in pratica, con due ore di live, fatto un po' di soldini per comprare il frigo. Nella puntata di oggi iniziamo subito, come vedete, sbloccando il nuovo obiettivo. Ovvero, una nuova sezione usando il tuo computer per espandere il tuo negozio. Possiamo scegliere se fare quello oppure comprare direttamente un'altra licenza. Perché, come vedete, abbiamo anche la possibilità di acquistare altre licenze. Ah no, ci vuole il livello 9, niente, niente. Ci vuole il livello 9. Allora, paghiamo l'affitto, paghiamo la fattura, e andiamo a sviluppare il nostro negozio. Vedete? Sezione 2. Acquista questa sezione per espandere il tuo supermercato. Quindi l'abbiamo acquistata. Vediamo un po' che cosa ha. Vedete? Vedete? Ci si è allargato il supermercato. Ora noi, facendo così, possiamo, penso, mettere un altro... Possiamo mettere un altro... Come si chiama? Un altro scaffale. Però io adesso devo capire dove comprare gli scaffali. Arredamento, scaffale, 200.000. Azzolina, eh. Azzolina, eh. Costa, eh. Costa lo scaffale, eh. Vai, vai. Vai, vai. Acquistiamo un altro scaffale. Eh, mi sa che i soldi per comprare la merce... Non ce stanno più di già. Allora, poi nei prossimi video metteremo anche le mod, eh. Adesso fatemi iniziare a prendere, perché... Ma avete scritto che ci sono le mod. Lo so che ci sono le mod. Ah! È stato allargato anche a livello di... Ah, no. Allora lo mettiamo qua. Guardate, facciamo uno... Anche a livello di profondità. Non solo quel pezzettino lì. Lo so che ci sono le mod, ragazzi. Prima, però, è come iniziare a giocare a farming subito con le mod. Cioè, prima, però, bisogna un attimino prenderci la mano. Prenderci la mano col gioco di default e poi successivamente andare con le mod. È bello, raga. Bello, bello. Così mi piace. Mi piace, raga. Guardate come si è già allargato il nostro supermercato. Mi piace. Ora, eh, tocca vedere se avanzano soldi per comprare un po' dei prodotti. Allora, vediamo un po' che cosa ci... Eh, c'è... Allora, l'unica cosa che abbiamo è il tè e la farina. Tè, la farina e pasta ce l'abbiamo. Quindi risparmiamo un attimino su tè, farina e pasta. Anche le uova. Tè, farina, pasta e uova ce l'abbiamo. Quindi, tè, farina, pasta e uova ce l'abbiamo. Tè, farina, pasta e uova ce l'abbiamo. Tè, farina, pasta e uova ce l'abbiamo. Vediamo un attimino, eh. Tè, farina, pasta e uova ce l'abbiamo. Me lo devo ripetere come un mantra. Latte. Ma sapete che vi dico? Ciao, Anzani, sordi. Prendiamo tutto. Vabbè. Adesso prendiamo solo sta roba qua, dai. Prendiamo solo sta roba qua. Acquistiamo. Acquistiamo. Stavo... Non so che stavo facendo. Ah, che corriere... Che corriere maleducato. Ci ha fatto cadere tutto il latte. Tutti i pacchi ci ha fatto cadere. Allora, ok. Mettiamo un po' così. Poi mi avete scritto che... Con i cartoni posso spostare la merce, eccetera, eccetera. Ma, insomma... Non è che adesso a me mi serve di spostare la merce. Eh, il ripiano è pieno. Un cacetto lo mettiamo lì. Poi... E poi sicuramente ci sono mod che ci permetteranno di fare tante belle cosine, eh. Allora. Eh, acquetta. Acquetta. Devo andare a controllare pure i prezzi, ragazzi. E devo vedere. Perché mi ricordavo che quando ho chiuso la live ieri. Mi pare che c'è il ricordo che, eh... Intanto il caffè lo posiamo qua. No, lo mettiamo qua perché il caffè me ci ha avanzato un attimino. Mi ricordo che c'era scritto che, mi sa, era cambiato il prezzo delle uova. Ora, voglio andare a vedere se il prezzo delle uova effettivamente è cambiato. Vado a controllare con l'etichetta. Vediamo un attimo. Eh... 3,82, 3,82. No. Va tutto bene. Va tutto... Fatemi controllare un attimo i sordi. Eccolo, il latte. 2,88. Era aumentato il latte. 2,88. Ogni tanto, ragazzi, controllateli i prezzi. Perché magari vi sfugge che... Vedete? Vedete? Stiamo vendendo tutto meno... Porca miseria di quanto costa sul mercato. Quindi ogni tanto ho dato un'occhiata a tutti i prezzi. Allora, il formaggio... Ok, l'abbiamo sistemato. Il formaggio l'abbiamo sistemato. L'acqua. L'acqua l'abbiamo... L'acqua sta a posto. Fatemi vedere lo zucchero. 4,60, 4,60. La farina. 3,57. La pasta. 2,95. Il pane. 3,96. Il tè. Eh, vedete? Il tè è diminuito. 4,62. Apposta ci rimaneva in venduto, ragazzi. Ci rimaneva in venduto perché lo stavamo vendendo sopra a prezzo. 10,48. 10,48. Ok. Ok. Ah, c'ho pure il pane sopra. Allora, se c'ho il pane sopra, la metto sopra. Va. Ok. Eh, bisogna controllare. Quando mettiamo a posto un prodotto, bisogna controllarne poi il prezzo. Ok. Vediamo. Quanto costano qua i cereali. Eh, 7,18. 7,18. Perfetto. Lo zucchero. Eh, ok. Lo zucchero. Però, ragazzi, non mi piace che ci sono i bancali invenduti. Bisogna aumentare la merce qua, eh. Bisogna aumentare la merce. Non mi piace che ci sono i bancali invenduti. Quindi, dai, caffè. Mettiamo una sopra anche il caffè. Allora, vediamo un po'. Eh, allora. Il prezzo dello zucchero va bene. Il prezzo dell'olio va bene. Ora, eh... Che cosa manca? Che cosa manca? Beh, in realtà non manca nulla. Ci servirebbe solo un'altra licenza per comprare altro. Eh, dai, compriamo un'altra... No, vabbè. Per il momento apriamo così, dai. Apriamo così. Così vediamo se durante la giornata c'è la possibilità di... Di acquistare qualche licenza, qualcosina. Non sarebbe male. Allora, ci mettiamo alla cassa. Tutti belli, carini. Anzi, facciamo come i negozianti da me. Non so da voi, ma da me i piccoli negozi. Quando non c'è nessuno, il negoziante si mette fuori. Si mette fuori a parlare con la gente, con chi passa a fumare una sigaretta. Insomma, si mette fuori così. Anche semplicemente seduto fuori. Ad aspettare, poi, appena arriva il cliente... Ammazza e faccia incazzata questa, oh. Questa incazzata forte, raga, oh. Speriamo che compra qualcosa. Che non sia una di quelli che compra un prodotto soltanto. No, ha comprato due zuccheri e un olio. Dai, meglio di niente. Meglio di niente, signor. Allora, mi ha dato pure i soldi precisi, quindi grazie. Non so... Non so come ringraziarla, veramente. Non so come appoggiarglielo. Allora, mi raccomando però, comprate. Non fate che comprate una cosa sola, eh. Che me fate perdere tempo per comprare una cosa sola. 19 punto... No, eh, sì, 19.000. 19.04. Mi piacerebbe. 19.04, ti ho detto. Perché? Perché pagamento errato? Scusa me. 19.04. Perché errato me lo dava? Boh, non lo so. Comunque, raga, non me ce trovo a fare col tastierino numerico della tastiera, eh. Me trovo meglio a fare col mouse. Non me ce trovo benissimo. Allora, me trovo meglio col mouse, sinceramente. 24.76. Poi... Un occhio poi lo devo buttare anche ai prodotti. Non vorrei che... Ma dai, non me pagare con 90... Porca miseria. Allora, aspetta, eh. Aspetta. 40. 60. 80. 5. 6. 7. 8. 9. E 50. Non me pagate con sti pezzi grossi, li mortati. Allora, c'è tutto, mi sembra, ancora, eh. C'è tutto. Non è finito niente. Di là, in frigo, c'è tutto. C'è tutto, dai. C'è tutto. Sembra vuoto perché abbiamo messo un botto di bancali, però... C'è tutto, dai. C'è tutto. Quanto dobbiamo darti? Niente, bravo. Quanto mi piacciono quando mi danno i sordi contati. Quanto mi piacciono. Allora. Bel tatuaggio, eh, signori. Bel tatuaggio. Allora. T, 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 t. Con la carta. Ammazza. Avvenente la signorina, eh. Oserei dire avvenente. Allora. A rivedergliela, a rivederle. Poi. Due caffè e un formaggio. Caffè e formaggio, ragazzi. Devo dargli 24, 96. Quindi, t, 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 t. A posto. Ok. Eh, 74 centesimi. 5, 6, 7, t, 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 t. Ok. Alla signorina qua. Prendo il restino. 0, 68. Ehm. 5. 60. 5, 6, 7, 8. A posto. Sì, ma non mi date tutti sti spicciarelli. Datemi i soldi contati. Allora. Oh, bravo. Oppure datemi la carta. 32, 32, punto 68. Che poi nella realtà di solito il totale viene in automatico. Non è che lo deve mettere il cassiere. Non vedo l'ora, ragazzi, di assumere il cassiere. Perché veramente la vita del cassiere qua è, è durina, è durina, è durina, è durina. La vita del cassiere è durina. Allora, sta andando a ruba il caffè, ragazzi, eh. Mi tocca ri... Riordinare il caffè. Appena c'è un attimo di tempo, riordino un attimino il caffè. Sta andando a ruba, ragazzi. Eh, beh, il caffè, ragazzi, è importante nella nostra alimentazione. Ehm, 31, punto 55. Dobbiamo arrivare al livello 10 per poter assumere un cassiere. Siamo al livello 8, quindi ci siamo abbastanza vicini. Ehm, 10, 1, 2, 3, 4. Si prende i suoi 14 centesimi. Ragazzi, non abbiamo il tempo. Non abbiamo il tempo, ragazzi. Sì, vabbè. Non abbiamo il tempo, ragazzi, di... Eh, di assum... Di andare ad ordinare il caffè. Vi rendete conto? Oh! Allora, ordino il caffè, l'olio e la pasta. Caffè, olio e pasta. Quindi, pasta, olio e... E caffè. Mi pare che non ci sia adesso altro da ordinare. Quindi, caffè. A posto. Lo mettiamo anche sopra. Un attimino, eh. Attenda. Non faccia l'impaziente. Olio. Ok. Olio. E... Eh, basta. Se sta finendo. No, che è finita, tra l'altro. Ok. Non facciamo mancare nulla noi ai nostri clientini. Arrivo, eh. Poi, bisogna vedere se c'è qualche altro prodotto in esaurimento, a parte me. Eppure io... Sto abbastanza in esaurimento. Bah, bravi quando mi date i... Il resto... I soldi precisi. Allora, eh, cinque... Ammazza questa, ha speso un bel po'. Bravo, signore. Bravo, signore. Allora, un attimino che devo accendere la luce, se no fate spesa al buio. Eh, come so, le sette di sera. Allora. Eh, ventuno. Zero, zero. Ok. Allora, allora, sta finendo lo zucchero e i cereali. Zucchero, cereali. Poi, che cos'è finito? Eh, zucchero, cereali. Zucchero, cereali. E farina. Zucchero, cereali e farina. Dopo le ventuno non posso più ordinare, quindi me ne devo sbrigà. Cereali. Dov'è? Cereali, zucchero, farina. Ma pure le uova ho visto che vanno via alla grande. Allora, uova. Boh, Dio. Dio. Pensavo che... Pensavo che ce n'erano meno. Allora. Farina. Farina è importante, raga, eh. Farina. Non deve mancare mai. Zucchero. Dov'era? Qua. Zuccherino pure importante. E poi... Cereali, che pure questi vanno a ruba. Pure questi vanno a ruba, ragazzi. I cereali, vedete? Ho fatto in tempo a metterli che la signolina subito... Oh, ma avete detto che dopo le ventuno la gente continua ad arrivare. Però io, insomma... Poi alle ventuno mi piace anche chiude, insomma. 49.86. Ok, speriamo che... Ok. 12.27. Mamma mia. Beh, così è bello, però, eh. Bravi, bravi. Bravi. Eh... Svotatemi al negozio, così mi piace. Pure il latte è andato via alla grande, eh. 28.48. Ok. Eh... Brava. Ma da di sordi precibello. Quando portano tanta roba, quanto mi piace. Quando comprano tanta roba. 38.86. Ti, 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 ti. Ok. Eh... Vedevo da un euro e... 64. L'ultimo cliente. Dai, poi chiudiamo. Eh... 30 centesimi. Tic, 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 tic. A posto. A posto, a posto. Closet, closet, closet. Oh, finiamo il giorno. Beh, ragazzi, abbiamo guadagnato, eh. Abbiamo guadagnato. Abbiamo guadagnato 803 dollari. Oh, il tè ne... Allora, l'acqua in bottiglia è scesa. Tè e uova sono salite. Quindi, eh... Uova. Eh... 4.58. 4.58. L'acqua in bottiglia, abbiamo detto che è scesa. 2.52. 2.52. Mentre, eh... Abbiamo detto il tè. Il tè, ragazzi, non compra nessuno. 5.54. 5.54. Altrittemmi rimane praticamente invenduto. Ora, ora, ragazzi, andiamo a... Andiamo a prodotti. Andiamo a comprare una nuova licenza. Se ce la fa comprare. No, livello 8. Livello 8, giusto, abbiamo detto la licenza. Livello 8. Livello 8. Paghiamo la fattura. Paghiamo l'affitto. La licenza... Eh... Acquistata. No, livello 9. Livello 9. Quindi entro oggi ce la possiamo fare, eh. Ad acquistare... Una nuova licenza. Allora. Eh... Un latte. Latte, acqua. Latte, acqua. Vabbè, ma ordiniamo tutto. Dai, ma chi se ne frega. Non si possono fare più di 10 ordini per volta, ragazzi, eh. Quindi... Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E 10. Dobbiamo fare per forza due ordini. E poi... 1, 2. Ok. E andiamo a... Risistemare tutto quanto. Quindi se ricomincia col pane... Se ricomincia col pane... Ok. Poi... Ecco, una modda utile è quella per togliere lo scatolone dalle mani senza che devo uscire sempre fuori. Sarebbe, ecco, se c'è... Non so se c'è, ma... Sarebbe una modda utile quella... Quella di togliere lo scatolone del ca... Poi farinotta. Maria Grazia farinotta. Farinotta ce ne deve sta tanta, eh. Perché, voglio dire, farinotta è importante. Lattino. Lattino. Il latte di tino. Ok. Sistemiamo il negozio, ragazzi. E poi continuiamo nel video di domani, ovviamente. E questa è una serie che vi voglio portare tutti i giorni. Perché... Mi sta entusiasmando questo giochino. Mi sta entusiasmando. Non lo dovevo comprare il tè, raga. Perché me... Mi rimane invenduto e basta il tè. Ho sbagliato a prendere il tè. Oh, alla stanzona il tè non gli piace. Ma Ervino non c'è? Lo sbloccheremo dopo, Ervino. Cioè, la cosa che se vendete più, Ervino... Noi non ce l'avemo. Ok. Guardate che bel negozietto che vi sto... Che vi sto... Eh? Che vi sto... Eh? Voi me capite, eh? Poi, qua che è? Olio. Olio di olava. Allora, no. Non è l'olio di olava questo. È l'olio di sama. L'olio di sama. Poi, eh... Acqua. Acqua. Voglio vedere il frigo pieno. Mi piace. Acqua. Acqua. Oh, in frigo non c'è più niente. Io ve lo dico. Eh... Cacio. No, non c'è il cacio. Porca miseria. Non c'ho per più il cacio, mo. Vedete? Vedete? Porca miseria. Se ne avevo buttato via lo scatolone... Mo ce l'avevo per il cacio. Sono stato un pirla. Vabbè. Che devo fa? Appena si libera uno spazio ci metto il cacio. Eh! Oh, oh... La fretta. La fretta è stata una cattiva conigliera. Caffè. Ma posso spostarla con lo scatolone? No, perché non corrisponde, vero? Eh, vabbè. Vabbè. Eh, se no faccio così. Guardate, eh. Guardate, eh. Boh, 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 boh. Niente, non faccio in nessun modo. Vabbè. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi piace questa nostra espansione del negozio. Eh, questo negozio che si sta espandendo, ingrandendo. Lasciate un bel lecchino e noi ci vediamo al video di domani di Supermarket Simulator. Ciao! Ciao!